Un progetto costruttivo che mi piace molto. È la soddisfazione espressa da Papa Francesco per il progetto Eastern Schools for Africa della Fondazione Vodafone che si propone di consentire a numerosi giovani africani di cui una parte ospitati in campi profughi di accedere online a importanti risorse educative. Un progetto dunque orientato a promuovere un mondo più inclusivo, più solidale, più capace di offrire opportunità di sviluppo a persone a rischio di esclusione. Il Bontefice ha poi auspicato che i giovani vengano aiutati a usare questi strumenti in modo libero e critico e possano avere l'accesso informatico ai testi sacri delle varie religioni in diverse lingue. Oggi bisogna essere costruttivi, fare cose che portino l'umanità avanti e non soltanto vedere come cadono le bombe. sopra persone innocenti, bambini, ammalati, città interi. No, costruire, non distruggere.